la vita la 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 per questa cosa, vabbè. Eh, ma se ci sono sette punti di crisi. Eh, te la provo! Ah, ma te la provo! Ah, ci sono sto l'ultimo metodo. Oh, vabbè. Aspetta, adesso va a fare dove sto. No, no, e a qua c'è la mia pelle. Sta... a... a qua c'è la mia pelle. Eh, ma... a qua c'è la mia pelle. Eh, perché provandà, 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 provandà il punto. Eh, questo, eh, c'è la sì! Mi chiede! Eh, 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 eh. Da, mi chiede me, mi chiede me! Eh, eh, eh! Eh, eh... Eh, 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 eh! Allora, no, 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 no. Ehi, prossimo...